Massimi storici di Bitcoin! No, 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 sto parlando dei massimi attuali di Bitcoin che non c'entrano niente diciamo con quelli storici ma sto parlando di quelli che Bitcoin ci ha abituato a vedere tanto tempo fa se vi ricordate chi di voi magari era già operativo, era già collegato al mondo blockchain questi qui che sono molto evidenti, molto chiari, sono stati stupendi anche portatori di grandi emozioni allora i massimi storici di Bitcoin, quelli che in pratica Bitcoin stesso ci ha abituato a vedere quali erano le decisioni cruciali da andare a prendere in queste zone vicino ai massimi storici che cosa la storia di Bitcoin ci ha insegnato, una guida in pratica per autostoppismo, una guida per investitori e trader per comprendere la questione, il nodo, la cosa più importante da conoscere proprio per cavalcare i mercati ancora secondo me siamo lontani da quelli che saranno i massimi di questa nuova fase ciclica di Bitcoin ma è giusto in questo momento prima degli eventi andare a ragionare su quello che è più importante fare per prepararsi a quello che verrà perché se siete pronti nel momento cruciale ovviamente ci sarà da divertirsi e soprattutto molte delle vite insomma che diciamo di investitori crypto potrebbero essere in effetti stravolte cambiate in positivo e questa è una grande cosa bene ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, un video particolare ci parleremo di questo super argomento massimi storici di Bitcoin ma vi parlerò soprattutto di cosa sarebbe stato saggio fare in quel momento e quali erano le scelte cruciali e perché tra le altre cose scelte replicabili, scelte giustificate a livello tecnico, scientifico, da un punto di vista statistico scelte che possiamo apprendere in questo video, portarle a casa e soprattutto riutilizzarle se dovesse essere necessario pronti? ripercorrendo dati storici soprattutto per esempio nella fase della bull run del 2017 che ricordo ancora adesso in questa fase ragazzi il mercato saliva in maniera impressionante queste sono candele di natura, mensile vi metto quelle settimanali per farvi vedere che cosa stava creando Bitcoin in quel frangente c'era veramente un'euforia incredibile all'interno dei mercati e soprattutto la voglia di dimostrare che quello che si stava facendo e quello in cui gli investitori stavano credendo era reale, era vero, era tangibile, si poteva toccare con mano e soprattutto poteva invadere il mondo, poteva invadere questo mercato e cambiare le sorti questa era la struttura di questa spirale, questa super bolla rialzista così poi definita che tra l'altro partì dall'agosto del 2015 e ragazzi incredibilmente Bitcoin aveva un prezzo così basso che mi vergogno a dirlo, cioè circa 200 dollari da questa zona senza considerare l'esciato in questa fase eravamo al 2400% ma non è neanche la fase di chiusura di questa struttura perché poi diciamo Bitcoin è andato anche oltre perché arrivò soltanto in quella fase a circa 20.000 dollari, infatti ragazzi vedete come la struttura del mercato, vedete vi faccio rivivere proprio con brio questa questione qui e qui eravamo già nel dicembre 2017 dove in pratica Bitcoin toccò effettivamente il massimo di questa struttura con un rialzo stellare addirittura del 10.000% rispetto ai minimi del 2015 quindi parliamo di cifre improponibili e soprattutto difficili da realizzare adesso perché la questione legata al fatto che Bitcoin adesso non vale 200 dollari ma è un valore assoluto incredibilmente più alto cioè circa 36.000 dollari attualmente porta al concetto che fare quelle cifre diciamo quei rialzi in termini di percentuali è ovviamente non possibile ma quale lezione si impara per esempio da questa struttura ragazzi? Qual era l'atteggiamento giusto da percorrere in questa fase? Che cosa doveva fare l'investitore? Quali erano le scelte del trader e dell'investitore stesso che poteva adoperare, mettere in atto e che potevano cambiare tutto quello che era l'escursus del momento? Intanto ragazzi vi richiedo se non vi siete ancora iscritti al canale di mettermi un mi piace per questi video e ovviamente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto passiamo alla questione appunto delle scelte per l'investitore allora io da sempre ragazzi, gli investitori, dico sempre che gli investitori e il trader hanno poche differenze sottili ma importanti ma poche differenze cioè l'investitore fa un trade lunghissimo che dura tanto tempo il trader può fare trade che sono più corti, durano addirittura poche ore o lunghi che durano mesi e mesi e mesi però sostanzialmente il fine ultimo è lo stesso, portare a casa un profitto e l'investitore farà la stessa identica cosa il trader lo fa in maniera più tecnica, l'investitore magari in maniera più superficiale parliamo così, però sostanzialmente entrambi affrontano montagne, sfide dei rischi entrambi affrontano delle scelte, coperta corta, guadagno di meno, rischio di meno guadagno di più, rischio tantissimo e entrambi devono gestire un po' di scelte ci sono sempre in ambiti come questo ragazzi immaginate di essere in questa fase allora avete assistito a tutta questa parte rialzista incredibile, poi a un certo punto il mercato inizia a stroncare inizia a fare questa struttura così adesso molti di voi diranno sappiamo già che cosa succede sì certo lo sappiamo, ma il concetto è come faccio io ad agire, a comprendere che quel tipo di inversione, quel tipo di cambio di passo del mercato può essere in effetti pericoloso e soprattutto il primo passo da fare è comprendere primo, io voglio restare investito cioè voglio ancora avere investimenti su un mercato che cambia il trend di medio-lungo periodo non lunghissimo periodo, medio-lungo periodo cioè 1-4 anni ragazzi, medio-lungo periodo io voglio restare ancora investito voglio avere in portafoglio un asset come bitcoin come un accritto, un asset iper-tecnologico iper-speculativo anche se il trend di medio-lungo periodo cambia questa è la prima domanda allora qui già dovete chiarire questa cosa prima teoricamente di mettere mano al portafoglio di fare operazioni long o short diciamo qualsiasi cosa stiate facendo sul mercato dovreste essere a conoscenza di questa risposta cioè se voi avete deciso già prima di continuare a detenere quell'asset per tantissimo tempo a prescindere dai cambi di trend oppure no è una decisione importante perché ragazzi solo se voi avete deciso di non salire di non tenerlo più di tanto e quindi se cambia trend vendere l'asset o semplicemente uscire dalla posizione allora a quel punto potete avere la risposta perché se la risposta è io lo tengo a prescindere quindi un holding che viene definito l'holding da struzzo no la testa sotto la sabbia a prescindere quindi non c'entra un concetto legato alla tecnica dei grafici di analisi tecnica analisi ciclica analisi fondamentale non c'entra niente macroeconomia non c'entra niente lo detenete a prescindere a quel punto la scelta è solo una ovviamente detenerlo però è anche una scelta che deve essere consapevole assorbire l'intero rischio del mercato cioè se quell'asset non performa più bene avete perso praticamente un'occasione magari di poter fare un grande profitto o semplicemente addirittura andare in loss quindi primo punto decidere questa cosa secondo punto che l'investitore al trader deve decidere io ipotizzo e dico ok esco se inverte il trend medio lungo che cosa significa allora bisogna comprendere questo significa punto primo non riuscire mai a vendere ai massimi storici del mercato quindi non riuscire mai a vendere qui fateci pace allora questa cosa ragazzi dovete comprenderla se non ci fate pace con questo argomento non potete andare allo step successivo questo è un video appuntino a pezzettini che vi porta da un punto a un altro punto in maniera diciamo protetta in maniera custodita da me che vi accompagno in questa cosa ma a proposito ragazzi tra le altre cose di cose protette vi parlo dello sponsor di oggi che è sempre Nord WPN ormai stiamo parlando un po' di Nord da un po' di mesi è una WPN ragazzi la stra famosissima WPN insomma che ormai tutti conoscono Nord è sicuramente la più conveniente è quella che fa in questo momento quella che fa una WPN in generale è proteggervi dal durante le connessioni quindi da attacchi da quello che sono diciamo la possibilità che alcune informazioni che siano visibili mentre voi state navigando e quindi la WPN è essenziale in quest'ambito soprattutto per chi nel mondo delle cripto per esempio apre un wallet mettere chiavi private e quant'altro quindi utilizzare la WPN può proteggervi anche in quei momenti non che sia facile accedere ovviamente però la sicurezza non è mai troppo poca soprattutto in ambito cripto e questo lo sapete tra le altre cose in questo momento c'è il Black Pride ragazzi quindi spostolo del video vi lascio il link in descrizione tre mesi extra aggiuntivi 65% di sconto questi sono insomma le funzionalità di Nord che ormai conoscete a me piace tantissimo oltre alla questione della WPN che vi fa anche navigare se siete comunque in un'altra per esempio città per volete vedervi una serie tv italiana voi lo sapete benissimo se siete all'estero insomma capita spesso che vogliamo vedere il catalogo italiano dobbiamo connetterci con una WPN e poi l'altra cosa fondamentale della WPN è che nell'ambito crypto vi fa utilizzare alcuni exchange che per esempio se siete in territorio italiano non potete utilizzare quindi questa cosa ovviamente con i pro e i contro che sapete che significa se non li potete utilizzare ci sarà un motivo quindi però ovviamente per la libertà di ogni cosa la WPN vi consente di farlo poi c'è il password manager e tutti i loro servizi va bene allora vi lascio il link in descrizione passiamo a la questione ritorniamo diciamo alla questione del nostro video iniziale ragazzi allora il secondo passo come vi dicevo è quello sostanzialmente di andare a decidere ad accettare che non posso mai vendere una posizione al massimo quindi questo lo dovete accettare se fate pace con questo concetto siete a cavallo ragazzi perché riuscite ad eliminare una serie di dischi attenzione che chiudere una posizione perché ha invertito un trend di medio lungo periodo non vi garantisce che la possiate comprare poi a un prezzo più basso ma questo è un altro problema che è legato al primo cioè prima questione dovete accettare di non vendere ai massimi seconda questione dovete accettare che potrebbe essere possibile il riacquisto dell'asset a un prezzo più alto fatte queste due accettazioni quasi come fede diciamo divina siete in una diciamo come si dice in una carro armato siete blindati in un terreno blindato perché vi proteggete da mille problemi mille questioni mille rischi e voi avete dato ovviamente la vostra avete pagato la vostra assicurazione perché sta dicendo io chiudo anche se non sono i massimi io accetto di acquistare magari a prezzi un pochettino più alti e questo giustamente il mercato ve lo premia ve lo premia con la garanzia la sicurezza di essere appunto in una carro armato essere in una struttura blindata allora fatto questo e se scegliete queste strade andiamo avanti terzo step quali erano le strategie possibili da applicare in un evento del genere di medio lungo periodo facilissime da replicare e replicabili all'infinito perché i mercati hanno questo atteggiamento costantemente e quindi sono ripetitivi lo sono sempre stati anche i mercati classici questi sono atteggiamenti abbastanza semplici allora quali erano le aspettative ragazzi che un trader aveva in quest'ambito in questo momento erano queste ragazzi allora prima il mercato poteva ritornare a salire e fare nuovi mastimi il mercato poteva ovviamente cincischiare facendo la barra di congestione oppure scendere quindi le solite tre strade che noi abbiamo sempre nell'ambito del trading ora come faccio io a gestire queste tre possibilità andando a ragionare su una cosa se la possibilità è quella che il mercato torni a salire io voglio essere sul carro quindi qui ci devo stare devo stare long se il mercato cincischia io posso anche essere off quindi posso anche uscire dal mercato perché in realtà non sto perdendo granché anche se magari ricompro un po' più alto però non ci sono grandi movimenti se il mercato scende io devo essere off ancora una volta quindi su tre possibilità ragazzi su tre possibilità quella di stare all'interno del mercato e del trend è soltanto una quindi soltanto in una possibilità quindi già a livello di probabilità questo la dice lunga su tante cose cioè il fatto che stare sempre on su un mercato non è geniale tanto è vero che se studiate per esempio quelli che sono i libri di analisi quantitativa e grandi studiosi che nell'ambito dell'analisi algoritmica sui mercati finanziari hanno studiato tutte quelle che sono le casistiche le probabilità e quant'altro vi dicono che una delle variabili uno dei parametri che si tiene sempre a mente è il time to market cioè quanto tempo l'operazione quanto tempo il vostro investimento resta al mercato più resta al mercato peggio è perché in realtà si assumono i rischi degli eventi che vi dicevo questi due uno e due che sono entrambi eventi off quindi anche questo baluardo dobbiamo un po' togliergli le basi quindi restare sempre al mercato è una scelta non solo non saggia in un settore del genere perché è anche pericolosa sostanzialmente quindi bisogna oggettivamente ragionare e dire io se decido di uscire con una parte uscire limitare i danni eventuali sto facendo una cosa che statisticamente è favorevole non è sbagliata quindi al massimo quello che succederà è perdersi una parte del rialzo ma poi in caso rientreremo a proposito ragazzi vi devo dare una news importantissima mercoledì prossimo facciamo una live in diretta dove presenterò tutte quelle che sono state le mie strategie personali nell'anno 2023 vi farò vedere quello che abbiamo combinato in Academy faremo il punto della situazione vi spiegherò e andremo anche a dare adito a questo tipo di video questo tipo di spiegazioni che vi sto dando oggi parleremo anche di che cosa sono le aspettative per il prossimo anno ci sarà la super offerta perché ci avviciniamo al Black Friday per quanto riguarda i corsi la formazione e tutto il resto immancabile perché stiamo cambiando tutto il progetto Trading On da un punto di vista Academy soprattutto e anche sul sito ci saranno novità mostruose che stanno arrivando quindi non mancate il mercoledì prossimo ragazzi mi raccomando alle classiche ore 18 mercoledì 22 novembre allora detto questo ragazzi in pratica già scardinato anche il concetto che restare sempre al mercato è la scelta giusta non lo è assolutamente dipende dal momentum quindi noi dobbiamo stare on sul mercato quando l'asset finanziario ha momentum potremmo anche decidere di stare al mercato quando è in barra di congestione attenzione perché questo io lo faccio ogni tanto perché mi secco per esempio a vendere perché preferisco assumere il rischio del ribasso e non quello di perdere il rialzo la scelta nella barra di congestione è molto soggettiva dipende da questioni personali però teoricamente essere investiti quando l'asset non produce alcun rendimento è errato perché noi dovremmo uscire e mettere a salvaguarda i nostri investimenti ovviamente ragazzi io parlo sempre di investimenti in questo contesto non parlo del fatto che bitcoin può sostituire la moneta fiat per mille motivi qui stiamo parlando di investimento e non di concetti di altro tipo fatto questo discorso allora parliamo della questione come fare allora come vado a disinvestire se voglio uscire da un trend di medio periodo punto primo il trend ragazzi l'inversione di trend io devo avere un grafico di riferimento un time frame di riferimento e su quel grafico su quel time frame vado a calcolare il trend di mercato come funziona un trend di mercato ragazzi dovete avere chiari quelli che sono i massimi e i minimi si ragiona così sul trend di mercato quale time frame vi consiglio di utilizzare per il medio lungo periodo il weekly time frame settimanale il più pulito e il più semplice mettete il tastierino qui la linea e neanche le candele avete lo smoothing io questa cosa la insegno nel corso basic ragazzi proprio le prime lezioni come creare smoothing sul grafico cioè non avere meno rumore si definisce così e quindi vedere meglio i segnali nel momento in cui avviene un'inversione di trend quando avviene quando i livelli dei massimi sono inferiori ai i successivi sono inferiori qui vedete sono tutti superiori guardate sono superiori questo 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 sono crescenti vedete vedete che sono crescenti quindi questo trend è rialzista qui anche i minimi sono crescenti il trend è palesemente al rialzo quindi minimi e massimi crescenti trend rialzista minimi e massimi decrescenti trend ribassista quando il trend inverte quando questo grafico fa uno swing al rialzo dopo non ce la fa e brecca il minimo e quindi genera un massimo massimo decrescente minimo minimo decrescente nel punto di breakout del livello del minimo precedente avviene l'inversione il nostro trigger point il punto in cui noi diciamo esco da questa posizione poi ci sono diverse uscite adesso ve lo dico si possono fare in tre modi per gestire un problema che si può avvenire cioè il movimento dell'asset in questo caso ci sono diversi modi per poterlo gestire bene adeguatamente ovviamente al massimo non è mai possibile nel settore aleatorio come questi però qui è la regola principale la regola più scema di tutti la banale quella medio-lungo periodo non quella da trader che ci sono mille indicatori analisi ciclica analisi da vedere mille cose ragazzi poi ovviamente se accostate altri tipi di analisi queste cose diventano iperpotenti come hai capito quando diventano super saiane si ingrossano mettiamo carrozzerie e diventiamo iperpotenti allora che cosa succede andiamo andiamo avanti col mercato guardate un po' che cosa fa bitcoin attenzione 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 già qui il segnale era avvenuto quindi qui c'era stato un cambio di trend vedete con il breakout di questo livello perché il mercato seppur aveva tentato di fare di riprendere la via rialzista non ci è riuscito e ha fatto un breakout a questo livello quindi teoricamente in questo punto avverrebbe il trigger stiamo parlando su bitcoin 2017 in questo caso quindi siamo molto in là con il tempo ed eravamo a 8000 dollari 7900 dollari circa a quel punto l'investitore potrebbe dire vado ai ripari cioè che faccio proteggo i miei investimenti il mio patrimonio proteggere ed accrescere il proprio matrimonio è la nostra mission ragazzi la mia mission personale quello che cerco di fare con questo canale da una vita cercare di difendere per tutti il diritto di proteggere il proprio capitale accrescere il proprio capitale e questa mission ragazzi si fa con questi video anche se magari molti di voi non li capiranno eccetera non capiranno il senso logico di queste cose perché proteggere il capitale è più importante che accrescerlo però in entrambi i casi noi ci siamo noi siamo sempre dentro in questo contesto allora lì 7900 8000 8000 chiusa un'operazione come poteva fare il trader a fare queste cose poteva decidere di farlo in tre modi trader o investitore in questo caso anche investitore perché parliamo di periodi molto lunghi poteva decidere di uscire totalmente dalla posizione quindi sell completo totale a quel punto si assume un rischio cioè il rischio qual è? che io sono uscito ma il mercato mi ha beppato e ritorna a salire quindi io poi lì dovrò rientrare a prezzi molto alti questo è pericoloso il trader ve l'ho detto prima dovete accettarlo anche questo problema decide di farlo eccetera oppure uscire a scaling out cioè a pezzettini avete presente un piano d'accumulo al contrario invece un paio di decumulo capito io vendo pezzettini perché medio un'area di prezzo che diventa rischiosa per un mercato e quindi invece di uscire tutto insieme esco a pezzettini perché se il mercato ritorna a salire io comunque sto dentro e quindi ancora ho l'asset ne ho di meno ma ce l'ho quindi non soppro la problematica della pomo e quant'altro allora vediamo cosa fa tra l'altro non mi ricordo se fa un'altra gamba rialzista mi ricordo che dovrebbe farla ragazzi allora se abbiamo ragionato intanto mettiamo una linea per esempio su questa zona qui che dovrebbe essere il nostro punto di uscita facciamo andare avanti un pochettino bitcoin niente da fare vengono aggiornati successivamente ancora i minimi vedete il trend è cambiato nuovi minimi e massimi decrescenti e si vede in maniera evidente quindi il nostro punto di uscita in questo momento ha gestito ma se voi siete usciti per esempio in scaling out e state cercando di mediare i prezzi probabilmente si esce ancora in questi in questi punti per esempio possiamo fare uno scaling out settimanale mensile due volte a settimana come i piani di accumulo la stessa identica questione quindi a questo punto si può andare avanti facciamolo scorrere un pochettino più velocemente ok ragazzi allora l'ho mandato un po' avanti allora cosa è successo è successo che noi siamo usciti intorno agli 8000 dollari il mercato poi io non mi ricordavo se faceva un altro hike ma non l'ho mai fatto in pratica soltanto in questo punto è andato di nuovo su vedete però vi ripeto se c'era la questione dello scaling out anche qui noi avremmo venduto a pezzettini in queste zone 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 poi anche alcuni potrebbero aver venduto qui ragazzi se lo scaling out era troppo lungo però in ogni caso non è sbagliato perché il grosso era stato venduto in sostanza abbiamo mediato un prezzo di vendita siamo usciti da una fase pericolosa poi sappiamo che bitcoin ha ripreso diciamo una sua struttura rialzista ma in questo contesto in un contesto del genere si può fare lo stesso ragionamento cioè ritornare per esempio in questo ambito long quando quando il trend inverte di nuovo qui abbiamo un minimo qui abbiamo un massimo qui abbiamo un minimo superiore qui c'è un breakout vedete ed è il nuovo ingresso che qui si va long ora lo so molti di voi diranno sono video per un grafico registrato non è così ragazzi perché il grafico registrato ma questi atteggiamenti i mercati li ripetono poi vi ripeto ci sono le differenze può essere che non sono così puliti ma voi dovete accettare di rientrare a prezzi più alti dovete accettare un po' di errore perché ci stiamo assicurando ragazzi non vendremo mai ai massimi e non compreremo mai ai minimi ma la gestione di questi momenti si fa in questo modo qualcuno di voi potrà dire ah ma sono questioni registrate eccetera ma io vi porto adesso all'ultima fase cioè quella di questo anno e vi faccio vedere lo stesso identico ragionamento che ci ha portato a dicembre del 2022 e vi ho detto più volte nel canale youtube a rientrare in posizione long su bitcoin la stessa identico costrutto è quello che abbiamo visto lo stesso identico costrutto è quello che ha fatto pochi settimane fa anche nella reprise di questo trend e ve lo faccio rivedere ragazzi cioè in questo contesto qui qui il mercato stava continuando vedete una struttura al ribasso qui fa un minimo non aggiorna il minimo con questa fase di risalita risalendo sopra il massimo precedente indica un punto di ingresso perché sostanzialmente ha invertito la catena di minimi e massimi decrescenti qui ha fatto anche se di poco vedete un minimo un massimo un minimo e un massimo crescente qui è un punto di ingresso 22.000 dollari se qualcuno di voi se lo ricorda il mio video dove i holder nel 2023 dicevo nella dip di questo l'ingresso vostro per l'holding di bitcoin a 21.000 qualcosa alla fine ha dato il segnale della dip è stata la stessa identica cosa ma andiamo ancora indietro e vediamo per esempio che cosa aveva creato nel 2000 invece 21-22 perché qui c'è stata una variazione qui per esempio il concetto dell'uscita non ha funzionato benissimo così vi faccio vedere anche le questioni dove si mette in crisi quando qui infatti è stato breccato qui c'è stato un primo livello di uscita ora se siamo usciti in scaling scaling out non c'è problema perché tutta questa fase noi abbiamo o siamo o abbiamo continuato a uscire oppure semplicemente ci siamo fermati siamo usciti solo poco però lo scaling out prevede insomma l'uscita in questa zona quindi qui siamo usciti praticamente sempre altrimenti ragazzi sostanzialmente se siete usciti in toto in questo punto qui c'era un problema perché il mercato superando il nuovo massimo questa zona qui dava di nuovo ingresso quindi in pratica la distanza fra questo punto e questo punto sarebbe stata una perdita di punti quindi l'accettazione come vi dicevo di comprare a prezzi un po' più alti ma non è neanche tanto la differenza perché da questa zona a questa zona qui è circa un 15% quindi io ho rinunciato a un 15% per proteggermi da eventuali catastrofi o che che sia ragazzi è la stessa identica cosa ha rifatto dopo qui in questo contesto ovviamente chiunque fosse entrato qui a tradare questa zona per il medio lungo non può provare non può portare a casa profitto perché qui si tratta di pochi mesi quindi non c'è possibilità alcuna di fare profitto per i investitori medio lunghi in un contesto di pochi mesi quindi questa zona vedete scende risale non ce la fa breakout breakout di nuovo uscita da questa zona anche qui scaling out eventualmente se lo volete fare oppure uscita secca e da qui il gioco lo avete visto qui non darà mai ragazzi mai un segnale di ingresso bitcoin non lo ha mai dato fino a questo punto quindi da 49.000 a 22.000 questo lo potete replicare n volte su grafico settimanale non su grafici piccoli perché su grafici piccoli sono pieni di rumore e queste cose non vanno bene questo potete farlo questo ragionamento potete farlo solo ed esclusivamente su medio lungo termine quindi anni sostanzialmente mesi anni e non potete farlo sotto il time frame settimanale perciò dovete ragionare su queste cose mi raccomando mettete un 15 minuti mi fate vedere che non funziona perché non esiste queste cose per 15 minuti va bene allora queste sono scelte che vi danno grandi possibilità ragazzi e soprattutto vi danno anche grandi potenzialità fate un esercizio provate ad applicare lo stesso ragionamento sulle altcoin in questo momento quante altcoin e progetti interessanti sono in inversione di trend è possibile avere un segnale in questo caso che un eventuale altseason nel prossimo anno possa dare grande soddisfazione partirà da adesso queste sono le domande che dovete fare open your mind sempre occhi aperti la semplicità è la chiave di ogni cosa non vi fate impastettare strategie multimiracolose miliardarie che non esistono non vi fate impastettare indicatori folli inventati con 20.000 strisce sotto i lega sotto i mari che non esistono altrimenti se fossero esistiti ci sarebbe qualcuno qualche russo programmatore un indiano informatico che sarebbe iper plurimiliardario grazie a queste cose e non esiste neanche non ce la fa neanche BlackRock da questo punto di vista e non ce l'ha fatta neanche Ray Dalio da questo punto di vista quindi lasciate perdere le false promesse invece ragionate sulla banalità la semplicità perché la semplicità nel mercato è la cosa che funziona di più e si chiama robustezza è uno dei parametri statistici dei nel trading algoritmico ed è fondamentale essere semplici ragazzi non dico cose banali approfondite studiate fate i compiti a casa vi renderete conto che sono informazioni molto preziose per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate e questo è il modo di cavalcare il prossimo trend la prossima Burran ed è questo il modo di cavalcare l'eventuale prossima al season non ve lo dimenticate io ve l'ho detto l'eventuale prossima